Sdrasvi, menea zavuti Aleksandr, vi na kanale Mordiantieke, na il pa ruski bolsie ciem tecnologii. Sevodnia mi pagavarim o Stalker 2, Ertov Cernobel, e du maju eta karasheya igra nacinajom. Un like per l'intro russo? Dai ragazzi, finalmente tre anni di università non sono sprecati, ho un gioco in cui posso leggere le cose dai cartelli e farvi l'intro in russo, let's go! Oggi parliamo di Stalker 2, eh Stalker 2, allora ve lo dico, mi uscirà 47 volte Stalker perché in russo si dice Stalker, in inglese si dice Stalker, quindi perdonatemelo se mi esce, non è Boria, è semplicemente raga che boh, ce l'ho in testa. E anche Stalker, oltretutto è uno dei miei film preferiti del periodo universitario, Stalker di Tarkovsky, da cui penso prenda anche tutta quanta la filosofia alla serie di giochi di Stalker. Vediamo di fare però un po' di analisi tecnica da PC Gamer su questo titolo, che è letteralmente un mattone, ragazzi. Però, devo dire, personalmente ne vale la pena provarlo perché è un gioco molto particolare. Se vi piacciono i survival post-apocalittici, un po' più Metro Exodus che Fallout, fa per voi. Ma vediamo un attimino di vedere le osservazioni che ho fatto durante le mie prime 16 ore di gioco. Allora, prima di tutto, Stalker 2, Earth of Chernobyl, ha fatto parlare molto di sé perché sono emerse delle slide, poco prima del launch, le abbiamo viste durante un modern news, in cui si vedevano delle prestazioni veramente bassissime, anche con componenti top di gamma, come una RTX 4090, e che solo il DLSS e la frame generation erano in grado di salvare da quei test, fondamentalmente portando da quelle che sarebbero delle prestazioni che noi riterremmo oggi accettabili per dell'hardware di fascia così alta. Ma senza, si parlava di circa 60 fps in 4K, il che è veramente assurdo, per una 4090. Quindi questo gioco ha un pochettino pizzicato il mio interesse, sia perché mi piace la serie, sia perché effettivamente, diciamo, è molto interessante vedere un gioco così massacrante, e volevo capire se fosse per un beneficio grafico di cui disponga il titolo, o se semplicemente siamo di fronte all'ennesima vittima del Real Engine 5, che in questo momento sembra essere un vero e proprio dosso sulla strada per chiunque voglia percorrere la programmazione con questo motore grafico. Prima di tutto c'è a dire che questo titolo è tipo in sviluppo da anni, da tantissimi anni, tant'è che prima di Unreal Engine 5 avevano tentato di svilupparlo con un engine fatto in casa. Però poi ci sono state delle complicazioni, poi dovete sapere anche che ovviamente essendo un gioco sviluppato in Ucraina ha avuto delle complicazioni dal febbraio del 2022 in poi. Insomma, questo titolo è un po' sfigato sul punto di vista dello sviluppo. Però, secondo me, a mio modesto dire, non hanno fatto un lavoro sbagliatissimo, e il titolo in generale è molto divertente. Sono partito a testare questo gioco con la classica combinazione top di gamma, un po' per vedere quale fosse il golden standard, e se quei grafici appunto che Nvidia ha rilasciato fossero abbastanza veritieri, insomma, in linea con la realtà. Prima ho giocato per un 2-3 ore, girando per il mondo, e poi ho selezionato una parte della mappa in cui fare qualche benchmark facendo avanti e indietro in maniera uguale, con diverse impostazioni, diverse build, diverse risoluzioni e varie altre cose. Diciamo che l'esperienza di gioco con una 4090 e un 9800 X3D in 4K, ancora prima di mettere il DLSS, è in realtà molto molto interessante, nel senso che siamo lontani da quelle che erano le prefazioni di Nvidia. Non stiamo facendo 60 FPS, anzi, ce la stiamo cavando particolarmente bene. C'è da dire che ovviamente bisogna vedere in che zona specifica siano stati fatti quei test di Nvidia, che magari ha selezionato una zona particolarmente intensa e pesante, per riuscire a macinare le proprie schede, e dare il massimo sotto il punto di vista dell'esibizione grafica a discapito degli FPS. Anche se devo dire che un po' forse, da una parte lo apprezzo perché abbassa le aspettative per questo titolo, dall'altra parte un po' forse spaventa i consumatori dall'acquisto del gioco, che tuttavia ci tengo a dire ha un punto a suo vantaggio in quanto è disponibile sull'Xbox Game Pass. Quindi di per sé, se avete l'abbonamento, non dovete comprare il gioco per Steam, potete averlo mediante direttamente la piattaforma di Xbox, quindi è molto positivo. In generale, comunque, il primo approccio con questo titolo, devo dire che è stato molto buono. Dopodiché, dopo essermi fatto la mia prima idea per le prime quattro ore di gioco, sono andato un po' su Reddit, su Internet in generale, a leggere cosa ne pensasse la gente. E quello che ho letto, principalmente, erano problemi di incompatibilità, crash e altre cose. Contemporaneamente, dal team di Stalker, effettivamente hanno rilasciato alcune affermazioni dicendo che stanno aggiustando tantissimi dei feedback che gli arrivano. Quindi, da persona che ha un configuratore che è stato aggiustato nel tempo, grazie ai feedback del proprio pubblico, do fiducia a questa azienda per essere in grado di, insomma, sistemare quelle che sono le problematiche riscontrate dai giocatori. Però, in generale, devo dire che non mi sono ritrovato in nessuna di quelle affermazioni, nel senso che io ho avuto pochissimi, ma proprio rarissimi, casi di starter e un pochettino li ho causati io, cioè ho creato delle situazioni in cui si potessero generare, quindi piccoli rallentamenti, microfreeze, cose così. E crash zero, proprio zero, in 16 ore di gioco, su tre piattaforme diverse, con condizioni anche di utilizzo abbastanza estreme, che tra poco vi spiego, devo essere onesto, zero crash. Il titolo gira benissimo. L'unica cosa un po' fastidiosa è che effettivamente all'inizio, ogni singola volta che apri il gioco, anche se lo riapri con lo stesso hardware, ti rifà la compilazione delle shaders. Che vabbè, sono due minuti sprecati, però effettivamente ogni singola volta fa la compilazione delle shaders. Oltretutto, piccola nota per chi non lo sapesse, la compilazione delle shaders mette sotto pesantissimo carico il processore, quindi se sentite il vostro dissipatore partire a bomba quando succede, non vi preoccupate, non sta esplodendo il vostro PC, è una prassi normalissima. Tutti i giochi, quando compilano le shaders, mandano il processore vicino al 100%, e consumano il 100% delle possibilità. Allora, per quanto riguarda l'ambito delle impostazioni, il titolo è abbastanza semplice, nel senso che troverete i soliti quattro preset, da alto a ultra, che in questo caso si chiama invece epico, e devo dire che sono dei preset molto lineari, nel senso che modificano letteralmente tutte le impostazioni, secondo l'ordine crescente, basso, medio, alto, epico. Sono molto molto semplici da utilizzare. Per la componente dell'upscaling del AA, effettivamente ci sono molte opzioni, è un gioco ben nutrito tecnologicamente, abbiamo il TAA, il TSR, il DLSS, l'FSR e l'XS, e poi dentro al DLSS c'è anche ovviamente il DLAA, quindi ci sono un bel po' di tecnologie con cui poter lavorare per migliorare la propria esperienza di gioco in diversi approcci. Per quanto riguarda la componente del Ray Tracing, è supportato, leggevo su PC Gamer, però che dovrebbe essere un Ray Tracing leggermente diverso, senza accelerazione diretta, sulle parti dedicate alla tecnologia, però non ho avuto riscontro né dai creatori del gioco, né da altre recensioni, quindi è una cosa che dice PC Gamer per adesso, non la do per buona, prendiamo con le pinze. Ad ogni modo ha una forma di Ray Tracing su luci e ombre, però devo dire, girando un pochettino per la zona, personalmente non l'ho trovato un Ray Tracing particolarmente emozionante, nel senso mi ha ricordato molto da vicino quello un po' di Metro Exodus, niente di che, cioè nel senso, un qualcosa che un pochettino ti arricchisce la scena, ma già i riflessi non sono quelli banalmente di un Cyberpunk o di un Alan Wake. È un Ray Tracing un po' blando, un po' tranquillo, non mi ha emozionato particolarmente, ecco. Invece la parte degli upscaling l'ho trovata molto interessante, perché insomma tutti quanti possono far largo uso del upscaling, oltretutto sono supportate anche le tecnologie di frame generation, sia del DLSS che dell'FSR, e si possono utilizzare in maniera sincrona dall'upscaling, cioè potete utilizzare la frame generation di entrambe le tecnologie senza utilizzare l'upscaling, cosa che dopo tornerà utile per un discorso che dobbiamo fare. Ora, passiamo alle parti prestazionali. Ho fatto un pochettino di test mettendo semplicemente a paragone quella che è la natura delle prestazioni con diverse build. Partiamo dal 9800X3D con la 4090. Il titolo è oggettivamente pesante, nel senso pesa. Questo gioco è un bel mattoncione, nel senso che effettivamente parlando, in 4K nei miei test sono arrivato anche a fare una media di 50 fps. Devo dire tuttavia che comunque scala abbastanza bene con la riduzione delle impostazioni grafiche. Ovvero che con il preset epico facevo circa 51 fps di media, con l'alto recuperiamo circa un 15% passando a 58, col medio risaliamo a 65 e col basso siamo a 75. Diciamo che a livello numerico, cioè di percentuali, è un incremento comunque importante il cui recuperare quel 15% da epico ad alto perché vi dico che in termini visivi non noterete grosse differenze. Quindi di per sé sono letteralmente un 15% di fps gratis. In termini sensibili diciamo che passare da 50-58 fps non è che ti cambi la vita radicalmente. Ecco, puoi notare un pochettino più di fluidità, ma non è come passare insomma da 60-90 fps che ovviamente è un incremento molto più ampio in termini percentuali. Sensibilmente è una cosina. Però devo dire che il 4K è forse la risoluzione un pochettino più esagerata per questo titolo. Nel senso che ho notato che in 1440p anche schede video di fascia più bassa comunque se la cavano nel gestire bene la situazione anche con processori meno potenti del 9800X3D. E soprattutto la cosa interessante che ho notato è che in 1440p e 4K, a meno che non giocassi a basso o a medio, ho veramente poco starter. Cioè non so se sia io che sono veramente il più fortunato del mondo perché ho letto in realtà di gente che ha problemi di starter, però effettivamente parlando io zero. Soltanto se proprio impongo delle condizioni super forzate come appunto basso e medio, ma chi gioca in 4K a basso e medio con una 4090, diciamocelo chiaramente. Le uniche condizioni sono quelle, oppure 1440p sempre a basso a medio, ma ripeto, chi utilizza schede video di fascia così alta se non nel contesto di appunto un test irrealistico, insomma te la vai un po' a cercare, ecco. Devo dire che l'incremento prestazionale tra il 4K e il 1440 è decisamente interessante, dimezzando la risoluzione fondamentalmente passiamo da 50 a 80 fps. Praticamente stiamo recuperando un 60% di prestazioni, continuerò fino alla morte a dire che il 1440p sia la risoluzione migliore per tutti quanti, perché a meno che non giochiate con 4080 Super, 7900 XTX, DX o cose del genere, il 1440p è la più viabile col più alto numero di schede video in assoluto, prima della fascia bassa ovviamente, ma è anche possibile approcciarlo con quello. Infine abbiamo il DLSS che dispone di più modalità, secondo me in 4K quelle più sensate sono la qualità e la performance, tanto per vedere un pochettino cosa si recupera, praticamente passiamo da 50 a 73 fps, onestamente validissimo, nel senso abbiamo recuperato praticamente il piano prestazionale in differenza del 50% che c'è tra utilizzare il preset epico e il preset ultra, con una riduzione, devo dire, grafica che in realtà è egregia, cioè nel senso non ho notato particolari artefatti, problemi, renderizzazioni fatte male anche a distanza, personalmente lo ritengo più che esemplare nell'esecuzione, sia per quanto riguarda il DLSS che poi per quanto comunque leggermente inferiori anche l'FSR e l'XS. L'unica cosa che vi posso dire è che l'XS fa un render partendo da una risoluzione leggermente più bassa, perché FSR e DLSS partono dal 50%, mentre lui parte dal 43% della risoluzione originale, quindi abbassa un pochettino di più la qualità generale, ma vi dico, se non siete persone che vanno a controllare attivamente i dettagli, noterete poco il degrado generale, comunque se utilizzate per esempio già il preset balanced, state bene. Durante la mia analisi di Stalker 2 la cosa che, diciamo, mi preoccupava di più è l'utilizzo del processore, nel senso che ho notato il 9800X3D che faticava un pochettino, ma non tanto, più che altro con l'introduzione del DLSS, che va a dare, diciamo, un pochettino di peso extra per quanto riguarda il contesto della CPU, aumentando ovviamente gli FPS, ma facendo upscaling da risoluzioni più basse. Il concetto generale è che se già un processore del genere inizia a darmi qualche segno di utilizzo alto o è ottimizzato molto bene il gioco per utilizzare tutti i core in maniera corretta, oppure vuol dire che i processori di fascia più bassa, insomma, ne risentiranno. Quindi ho fatto un pochettino di test a riguardo. Sono passato pertanto alla seconda configurazione intermediaria, che ha un 7700X e una RTX 4070T Super, che ha le stesse prestazioni della 4070T, però per il 7700X inizia ad essere leggermente borderline in determinate condizioni. Cioè è quella scheda video come la 7900XT che inizia, in base alle condizioni in cui giochi, magari a dare qualche piccolo accenno di bottleneck, ma dipende dal titolo e appunto dalle condizioni generali, dagli FPS e tutto quanto. Con il 7700X in realtà nativamente questa scheda se la cava bene, nel senso va per la maggior parte del tempo ad una buona percentuale di calcolo, quella che riterrà ideale sopra l'85%, e il processore in generale, come potete vedere dall'utilizzo dei core e dei thread, non è che se la stia cavando particolarmente male, nel senso va bene, va bene così. Nel senso non ho notato particolari casi di starter che derivassero durante l'esperienza di gioco con questa seconda build dall'utilizzo di questo processore con appunto la 4070T Super, che vi dico, onestamente è una scheda video che magari non tutti prenderebbero con questo tipo di CPU, perché alla fine stiamo parlando di un qualcosa che è solo leggermente meglio di un 7600. Il fatto è che Stalker 2 in questo caso va a utilizzare ampiamente gli 8 core, quindi è un titolo che riesce a fare uso della CPU nella sua completezza, e la mia paura principale era appunto per gli Esa Core, a cui arriviamo tra poco. Principalmente la fatica del 7700X con la 4070T Super, l'ho notata in 1440p con l'utilizzo del DLSS Performance. Diciamo che è una condizione anche un pochettino estremizzata, nel senso che solitamente le persone utilizzano il balanced o il qualità per i giochi single player per godersi un po' meglio la grafica, almeno in quella che è la mia esperienza empirica, con le persone che mi circondano e un po' con le vostre opinioni. Quindi di per sé è un po' forzata, però comunque nonostante il carico del processore sia arrivato a dei livelli abbastanza importanti, nel senso che qualche core ha raggiunto e superato l'80%, il 7700X nella mia esperienza di gioco anche in queste condizioni se l'è cavata bene. L'unico punto in cui ho notato magari qualche problemino approssimativo è nell'arrivo nelle città. Nelle città Stalker, ma mi sembra che successe anche un po' negli altri titoli, diventa un po' più pesante, ma questa cosa alla fine succede un po' in tutti i giochi, anche in The Witcher se vai nelle varie cittadine, effettivamente noti che la CPU insomma prende un po' di carico in più, è perché ci sono tanti NPC, elementi lasciati lì in giro, insomma è una grossa condensazione di cose da gestire, tra cui appunto tanti NPC e questi NPC hanno la loro intelligenza artificiale, fanno le loro piccole azioni indipendenti e bla 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 bla, quindi è normale. Diciamo che il 7700X, tolto qualche leggerissimo caso di sovraccarico, non mi ha dato problemi di starter, quindi in questo caso bene. L'ultima build che ho voluto testare è quella del 7600X accompagnato dalla 4070 Super, una build che ho visto fare a tanti di voi, ve l'ho suggerita tante volte anche io, e siccome ero un po' preoccupato per questi carichi leggermente anomali, volevo essere sicuro che, insomma, la build che io ritengo una delle più bilanciate, anche se sta giusta, cioè nel senso nel suo limite corretto, non avesse problemi, visto che con Space Marine 7600X io qualche volta l'ho visto faticare. Come se l'è cavata? In realtà piuttosto bene, nel senso che con la 4070 Super il carico era piuttosto bilanciato, senza particolari problemi, e ho notato giusto un incremento del carico quando poi sono andato a introdurre il DLSS nuovamente, anche qui in versione performance o qualità, ma onestamente non c'è ancora un caso che ti faccia dire, almeno non nel punto della storia, con 8-9 ore di gioco, più altre sette di test, in cui io sia arrivato, che mi faccia dire, ok, c'è un problema. Cioè, rispetto a Space Marine 2, Cyberpunk e altri titoli, che in qualche caso mi hanno dato starter su processori meno potenti, effettivamente parlando, secondo me, se l'è cavata bene. Niente da dire, proprio bene. Il 7600X, accompagnato dalla 4070 Super, anche con l'utilizzo del DLSS, va bene. Nel senso, rimane ad un carico alto, ma devo dire che questo qui è un carico che ho visto su tanti giochi, nel senso, sono carichi che ho visti anche su Black Ops 6, su Space Marine 2, su Cyberpunk, e su altri titoli che siano principalmente nell'ambito del CPU bound. Poi, dipende sempre un po' dal titolo. Ero preoccupato per Stalker, perché insomma è un titolo pesante. Però ovviamente questi sono processori moderni. Se voi scendete un pochettino sotto, probabilmente potreste riscontrare qualche problema. Ho visto qualche recensione che includeva, per esempio, un 5600X, accompagnato da una 6750XT di Daniel Owens, e qualche problemino di starter, lui l'ha notato, qualche sovraccarico, un po' di bottleneck. Onestamente, sì. Cioè, nel senso, è un fenomeno che può avvenire sopra di questo gioco. Diciamo che gli esa-corro un pochettino più vecchi, quindi dal 5600X in giù, o analoghi di Intel, quindi dal 12400 in giù, effettivamente potrebbero faticare un po' di più. Se sentite questa fatica, il mio consiglio è che rimoduliate un pochettino le impostazioni grafiche in maniera da avvicinarvi il più possibile a 60fps stabili, e da lì, senza utilizzare il DLSS, implementiate la frame generation. La frame generation, per sua natura, non influenza il carico del processore. Quindi la cosa utile, effettivamente, è che vi permette di arrivare, come in queste clip, a magari un centinaio di fps, e godervi il titolo in maniera egregia, senza sovraccaricarvi la CPU, che rimarrà libera per quando ci saranno zone che magari richiederanno maggiormente il suo intervento. Comunque, arrivati alla fine di questa analisi tecnica, io vi dico che il titolo a me sta divertendo tantissimo. Nel senso, è un Fallout più cattivo, è un Metro Exodus in un altro ambiente. Diciamo che è molto interessante, devo dire che mi hanno anche un po' divertito le intelligenze artificiali, meno negli umani, che ho ritenuto un po' più stupidi. Però oggettivamente, tipo, c'è stata una situazione in cui un gruppetto di cani mi ha aggredito, e dopo aver fucilato il primo, gli altri due sono scappati in due direzioni diverse, ma uno ha fatto una cosa molto intelligente, si è nascosto dietro ad un oggetto per ripararsi dai proiettili, secondo me, cioè spero che questa sia la logica perché io l'ho interpretata così, e quando sono andato a cercare di scovarlo, è scappato dall'altra parte, non è stato fermo, non ha tentato di attaccarmi, cioè, hanno delle dinamiche di intelligenza negli attacchi che mi garbano, mi garbano assolutamente. Non sono stupidi NPC, gli esseri umani un po' meno, gli esseri umani me li cavo meglio, però quelli che non sono umani, in generale, mi stanno piacendo, mi alzano la difficoltà. Sto giocando a difficoltà Stalker, quindi quella di mezzo, però, devo dire, mi appaga. Secondo me, una volta risolti i problemi tecnici come Stutter, Crash o altre cose del genere, che oltretutto vedo che dipendono un po' a caso dalla build che hai davanti, sarà un gran titolo. Onestamente io gli darei già da ora un 8-8,5 per la mia valutazione personale come videogiocatore occasionale. Diciamo che graficamente non è assurdo, nel senso, nei trailer sembrava meglio, devo essere onesto, però alla fine della fiera è il titolo che mi aspettavo, nel senso, alla fine graficamente è un po' come Fallout, non è che vuoi quella roba particolarmente eccelsa. Al tempo stesso, il peso per la grafica che ottieni è un po' alto. Non è disastroso, nel senso che come avete visto, in tre combinazioni differenti di build, effettivamente si può giocare. Il problema arriva più che altro con la fascia bassa, in base alla tipologia di processore che avete, perché per rimodulare e recuperare FPS, effettivamente potreste incappare, in qualche caso, di botte on ecostatter. Il titolo, insomma, quindi non è accessibilissimo, non voglio giustificarlo all'infinito, però al tempo stesso, se avete una build di fascia media, moderna, onestamente ve lo potrete godere, ma poi, ripeto, dipende un pochettino dalle condizioni generali, e dalle parti, certe parti del gioco magari funzioneranno meglio, certe parti del gioco funzioneranno peggio. Per me è un titolo molto divertente, ve lo consiglio, lo trovate nell'Xbox Game Pass, su Epic Games, su Steam, lo trovate praticamente ovunque, anche su Xbox, ma non su PS5. Sarei stato molto curioso di vedere come se la cava su PS5 Pro, e quanto upscaling devono adoperare per farlo andare in 4K, col PSSR, però bisogna vedere se uscirà e con questa tecnologia. Ad ogni modo, per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, voi state su Modern Tech, da Svidani!